Che farei? Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Di cui ormai sarai stufo di sentir parlare. Oh no. La storia di un revered e se 400 milioni in oro e gioielli è la mia nuova nina nana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Se fossi libero? Assolutamente. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Mi gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Saccami di qui. Wow. Che facciamo con lui? Samuel. Sei pronto per il tuo destino? Sì. Vamonos. Porca puttana. Los demás están en posición. En camino. Vado a perderlo al plazo. Al testo. Tu hai iniziato a progettare tutto? Quando ho messo piede in questo posto. Pamela, dati una mossa. Dobbiamo fare in fretta. Porca miseria. Un pedazzo di piedi. Un pedazzo di piedi. Un pedazzo di piedi. Tu ti ricordi come se usa? Mi tornerà in mente. Abran todas estas puertas. Héctor. Se lo fai, scolpirà una cazzo di rivolta. Eh, eh. Esatto. Pagami. Dai vicino. Dai vicino. Muoviti! Buona fornita! Dobbiamo cadagliarci, la nostra libertà! Siamo! Sigan al frente! Sendialo! Yes! Siamo al preparo! Dejenos pasar! Y nos dejamos vivos! Yes! Atentos a todos! No! 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 Il piano sta funzionando! Vedi! Lo vedo! Vai! Ora! La area sta assegurata! Por aqui! E adesso? Estamos in posizione! Estan listos? Si! Busca in donde cubrirse! Samuel, nasconditi dietro qualcosa! Cosa? Perchè? Palma e basta! Immobile! Stai bene! Si! Si! Si, sta bene! Che enfri architects! Apparecciu! Se equilibこう! Aque una nascondita! Si! E' qualche cosa estPCA! E ? Espere un diritto! Sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.